I clienti della banca, come stanno vivendo il passaggio a SEPA? Io direi che possiamo distinguere i clienti in due principali categorie per semplificare. I clienti che in generale e sostanzialmente in tutti i principali paesi europei sono in una fase di attesa. Attesa per la fissazione della famosa end date. Quindi anche i più grandi in diversi casi stanno aspettando la fissazione di questa end date per poter lanciare i propri progetti interni di migrazione, sia per quanto riguarda il credit transfer che il dare debit. Una seconda categoria di clienti numericamente più ridotta invece sta accogliendo in alcuni casi in maniera piuttosto tattica direi alcune opportunità legate alla disponibilità degli strumenti SEPA per varare la propria migrazione. Alcuni di questi sono già pienamente operativi. I principali criteri da parte appunto dei clienti per avviare la piena operatività SEPA sono fondamentalmente due. O un criterio strettamente economico laddove i costi di gestione dell'operatività sui pagamenti i vi incluse anche le commissioni bancarie sono più ridotti, sono favorevoli. Oppure in un secondo caso laddove hanno scelto e deciso in maniera strategica di accentrare la propria operatività soprattutto in situazioni di gruppi ripartiti e presenti su diversi paesi di accentrare la propria operatività sulla payment initiation, sull'inizializzazione appunto del processo dei pagamenti. E come banca cosa potete fare per facilitare questo passaggio? Allora la banca ha capito fondamentalmente dall'esperienza concreta perché abbiamo accompagnato alcuni clienti che ormai sono pienamente operativi soprattutto in alcuni paesi che è necessario varare insieme, accompagnare insieme al cliente accompagnare il cliente in un progetto di migrazione attraverso una struttura anche e un'attività organizzativa dedicata all'accompagnamento del cliente nel proprio progetto di migrazione quindi abbiamo scelto con successo di dedicare delle risorse e dei processi per poter supportare il cliente nella migrazione specificatamente o in maniera più sensibile per quanto riguarda l'utilizzo del SEPA Daire Debit perché è un servizio per alcune tipologie di clienti e in alcuni paesi più complesso del Daire Debit domestico già esistente questo servizio di accompagnamento, di onboarding si è rivelato sicuramente un fattore critico di successo nei tempi di migrazione per assicurare al nostro cliente la piena operatività nei tempi che si era prefisso E in Europa quali sono i paesi più avanti nella migrazione? Ci sono anche qui secondo me due esempi sintetici ci sono alcuni paesi in cui è stata fatta una scelta strategica di adottare gli strumenti SEPA e abbandonare gli strumenti domestici penso a Lussemburgo, penso alla Finlandia dove le comunità bancarie hanno formalmente deciso di abbandonare credit transfer soprattutto il credit transfer domestico ci sono invece alcuni altri paesi dove invece l'esigenza di migrare è partita spontaneamente dalla clientela penso soprattutto al Belgio dove si è diffuso, ed oggi è il primo paese in termini di numero di operazioni si è diffuso in maniera anche abbastanza consistente l'utilizzo dell'SDD questo perché a fronte di una, tra virgolette, mancanza preesistente nel sistema di re-debit domestico che di fatto non aveva l'equivalente del B2B alcune aziende creditrici hanno colto questa opportunità per implementare appunto il SEPA di re-debit B2B e ridurre quindi il rischio di storno legato alle otto settimane della PSD questo ha naturalmente facilitato la diffusione c'è stata una motivazione di business sulla quale il mercato si è fortemente focalizzato e sulla quale le banche hanno risposto per cui diciamo a fronte di questo ad esempio oggi il Belgio è in termini di volumi il primo o il secondo paese in termini di appunto numero di transazioni STD e l'Italia invece? allora per quanto riguarda l'Italia la mia sensazione è che parlando sempre di aziende sia la clientela mid sia la clientela large sta ancora un po' alla finestra sta aspettando sicuramente che siano chiare e definite alcune regole in corso di ultimazione ad esempio la fissazione dell'end date le regole dell'AOS SEDA per quanto riguarda il re-debit in modo tale da poter lanciare e avviare un progetto di immigrazione a regole ben chiare è inutile negare sicuramente che c'è una parte di clientela che di fatto ha una posizione totalmente attendista e migrerà seguendo gli obblighi legati alla fissazione dell'end date grazie a tutti